sovraccarichi avete detto che ci sono no no inarrestabile barriera sovraccarichi no no ok ah perchè non ci sono gli infami no ok confondo con l'altra cosa ha un ordine d'argento infami si perchè gli infami sono sovraccarichi benvenu infami sono sovraccarichi ma che dice questo quando ci sono i cala in base al tipo di moda c'è il campione parte l'antibarriera i cabalciano gli inarrestabili alveare anche sovraccarichi sono caduti e sono sbagliati infami oltre che quale cala c'è stato l'infame aiuto nessuno prigione dei carti no che fanno spaventare non sono infami quelli alvegliante del mio non mi pare qual è il campione qual è il campione infame scusa non c'è non ci sono cala allora volevo dire caduto invece dei fomi sovraccarichi sono caduti allora volevo dire caduto invece dei fomi anche ma non ho mai fatto il cala quello dove c'è il boss che fa la roba d'arco gm non hanno preso spero no 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 ma quali vicino non sono spariti tutto quello dove si fermava il pompa non sono spariti al farà di veramente quella è quella non è mai stato gm io ricordi no ma non mi ricordo i campioni no ma adesso non lo puoi andare neanche io ma in realtà è niente benvenuti ad una nuova puntata però non abbiamo scoperto nulla ho solo inventato qualcosa non è uguale guardiamo ancora le clip e io comunque ho portato un altro ah cazzo pensavo l'avessi solo bloccato e poi l'ho mai cominciato è brutta quanto fa lo faccio vedere di quanto danno uuuuuh gli sti app che ne vanno ma se vuoi mi dà il check oppure no 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 ma questa casa lì barabaggiori che ha detto eh questo è un'altra è un'altra kit credo benvenuti di una nuova puntata in cui black history rave ci sono racconti un po' al demonio basta ma l'ho rimesso il pandemonio? e benvenuti ad una nuova puntata in cui black history rave eh vabbè porca madonna mi ha ucciso e l'ha chiusa al busto ma la granata l'azza mi fa male anche a me non lo so più questa roba e niente mi fa benvenuti ad una nuova puntata porca madonna e chi l'ha mai usata le granate laser sul cancello? eh super caricato a piena carica si sommano? no vero? certo che si eh porco dio ah no non l'ho mai usata questa ah no non l'ho mai usata questa ma quanto hai il caffo massimo? dove in un giorno? cinque? infatti cinque cariche di luce massimo? sì sì cinque tutti attaccati eh già da cuore si tipo lo salto poi ci inculano si fa no si vuoi sguardo ragazzi ti sgamma sempre ma quando? quando è mai? no no ma non ti sgamma proprio niente ok ma che maschino? no doveva fare allora buo io son già qua ciao vado no be lo so lo fa chi è indietro? io sono qua io sono qua io ma mi riaspetto qua non c'è unione Esci dalla squadra Quando vi ho avviato lo step? Non si può avviare lo step E niente E anche questa Guarda Sono un coglione Posso rientrare? Benvenuti Mi ha glippato anche questo Posso rientrare? Ma non lo so Ho scoperto che ci sono anche setori Per givermi alla luna Ci sono voluti solo pochi secoli Ah benvenuti quindi La glippo Mi chiesco Mi chiesco per la mia rivivere Ma tieni conto che con lo xeno Devi tenere conto anche che c'è un divinity E che i razzi E che i razzi Non fanno esplodere direttamente la bolla Quella roba la ha? No Che cazzo sta dicendo? Non mi ricordo I razzi fanno esplodere la bolla del divinity? La devo clippare questa? Cos'è che fai esplodere la bolla del divinity? Nulla Solo i divinity? Nulla Qualcosa che ti sei sognato C'era il cecchino nuovo che ti dava l'effetto ottico che faceva sparire la bolla C'era Proviamo con un divinity? Proviamo con un divinity I razzi fanno esplodere la bolla del divinity clipata Hai detto hai fatto 400 Hai fatto 400